Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare, tanto più non possiamo tollerare che in questo momento in cui la comunità nazionale intera ha fatto tantissimi sacrifici, questi risultati siano vanificati addirittura da migranti che vogliono sfuggire, tentano di sfuggire alla sorveglianza sanitaria. Non ce lo possiamo permettere. Così parlava Conte nel 2020. Come non ricordare poi manifesti elettorali nei quali veniva scritto Sbarchi Zero. Come dimenticare poi gli anni che era al governo insieme a Matteo Salvini e proprio in quei giorni Carola Racete speronava, entrava nei porti per far sbarcare i migranti. Ed ora colmo dei colmi Giuseppe Conte ci si vuole alleare in Europa. Anzi ci si è proprio alleato ed ora sta in prova. Perché Carola Racete e compagni devono vedere se il passato di Conte e del governo giallo-verde non è più influente sulle decisioni del Movimento 5 Stelle in Europa. Ci pensa poi Libero a spiegarci bene la situazione con un articolo in prima pagina di Francesco Storace. Il gruppo di Racete e soci accetta i grillini ma con riserva Conte comunista in prova a Bruxelles. Segue poi a pagina tua l'articolo del mitico Storace. Un apprendista a Bruxelles, Conte comunista in prova, gli eurodeputati Movimento 5 Stelle, sei mesi sotto esame di Racete e compagni. Il gruppo radicale LEFT accoglie con riserva gli otto eletti grillini. Dovranno superare un periodo di osservazione reciproca per conoscere meglio i nuovi. Dubbi sui trascorsi nel vecchio governo giallo-verde. Quindi Giuseppe Conte tra Ilaria Salis, Mimmo Lucano, eletti con allenanza verde, insieme a Carola Racete, palatina tedesca pro-migranti eletta al Parlamento europeo con il partito D e Linke. Partiamo con l'articolo. Potrebbero chiamarlo, ma, il nuovo gruppo al Parlamento europeo che mette assieme manettari e anarcoidi. La famosa sorpresa annunciata da Giuseppe Conte prima del voto è resa pubblica solo ieri, altrimenti sarebbe esaltato pure il 9% delle elezioni. Giustamente. Ma ricordiamoci che il Movimento 5 Stelle agli inizi sembrava un partito di destra. Voleva sbarchi regolari e fuori dall'euro, vi ricordate? Invece adesso è tutto e il contrario di tutto. Era l'ingresso nel gruppo degli estremisti rossi, cioè ormai proprio nel gruppo degli estremisti rossi il Movimento 5 Stelle in Europa. Gli otto eurodeputati pentastellati hanno dovuto bussare alla porta di The Left, dove troveranno altri compagni di viaggio, tra cui due italiani famosi come Ilaria Salis e Mimmo Lucano e una notissima tedesca come Carola Racete. Legalità e manette, come una nuova ragione sociale. I progressisti di Gartone, così ormai saranno chiamati gli onorevoli di Conte, in un quinquennio non sono passati solo da Salvini a Draghi via PD, ma anche da Farange e Salis in Europa. Le giravolte non si contano più. Determinarono l'eliminazione di Ursula von der Leyen al vertice della UE. Ora giurano che non lo faranno più. Chi può raccontare riferisce di riunioni toste per arrivare al risultato di ieri. Pensate. A partire dall'opera di persuasione della delegazione italiana. Perché AVS dentro a quel gruppo ha infilato solo la Salis e Lucano. Gli altri quattro stanno con i Verdi, che vogliono comandare sugli otto grillini. L'esame? Sì, perché arriviamo all'esame. Perché ora questi grillini dovranno fare l'esame rosso. Quanto sei comunista e narcoide? E a un certo punto, tra una domanda e l'altra, alcune gliele ha poste proprio la professoressa Racete. Per superare l'esame, i compagni di Fratoianni hanno preteso sei mesi di prova. Vediamo come vanno e poi decidiamo, insomma. Si racconta che i colloqui siano stati abbastanza stravaganti. Molte delle domande ai 5 Stelle si sarebbero concentrate sulla posizione del movimento in materia di migrazione, ma era scontato questo, e sul passato governo giallorosso con la gialloverde e con la Lega. Quest'ultima questione è stata sollevata, tra gli altri, proprio dalla capitana Racete, eurodeputata della Linke. Le risposte sono state soddisfacenti e in effetti sono abituati a motivare i loro voltafaccia. Il deputato di Fratelli d'Italia, Procaccini, un po' esagera quando afferma che i pentassellati dovranno dimostrare capacità nello speronare navi o occupare case altrui. Ma non è che ci va così lontano. Faranno queste le prove? Le prove supreme del comunismo! Comunismo! Insomma, come un affidamento in prova con inevitabile mal di pancia interni all'una e all'altra parte. Al punto che in casa Movimento 5 Stelle stavolta nessuno si azzarda a sollecitare il solito referendum online tra gli iscritti. Te credo! Se dovessero far prevalere la loro opinione, sarebbero guai in un movimento abituato a gridare alla legalità e che poi convive in Europa con i personaggi, diciamo, un po' nei guai con la giustizia. Comunque, la notizia tanta attesa è arrivata. The Left ha approvato l'ingresso degli otto eurodeputati del Movimento 5 Stelle all'interno del gruppo stesso. La decisione è stata comunicata ai margini dei colloqui tra il Boreau del gruppo e gli europarlamentari pentassellati che costituiscono ora la seconda delegazione più numerosa della sinistra europea dopo la France Insoumise. Poi il comunicato finale, partorito dopo una lunga trattativa per dare un contentino ciascun l'altro. Il gruppo, la sinistra, il Parlamento europeo ha ufficializzato così l'ingresso della delegazione del Movimento 5 Stelle per confermare la convergenza politica sinistra e Movimento 5 Stelle hanno concordato di prendersi un periodo di sei mesi con uno status di osservazione reciproco. Quindi per passare all'estrema sinistra in Europa diventano sorvegliati speciali. Ogni ora quando si accende la luce tu ti alzi, guardi la telecamera e dici il tuo nome e numero. Nome e numero. Leone 510. Pronte alla telecamera. Nome e numero. Leone 510. Nome e numero. La domanda a questo punto sorge spontanea. Chissà cosa penserà Beppe Grillo di tutto questo. Se allora il video ti è piaciuto hai due cose da fare Iscriverti al canale ed attivare la campanellina Per tutti i video Perché non lo fai? È gratis Falo, 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 falo Autore dei sorrisi